Vediamo come cucinare gli asparagi in modo corretto. Prima cosa è scegliere una buona materia prima. Le infrescenze devono essere compatte e non aperte, e gambi sodio e verli. Primo passaggio è lavarli sotto acqua corrente. A questo punto possiamo rimuovere il gambo finale. Possiamo spezzarlo o tagliarlo, facendo un taglio circa 5 cm dal fondo. Ora non ci resta altro che cuocerli in una larga padella e in acqua già salata per circa 10 minuti. Poi li immergiamo in acqua con ghiaccio per mantenere il colore verde brillante. A questo punto possiamo conservarli in un contenitore ermetico e poi in frigo per 2-3 giorni. Così li avremo come base di moltissime ricette. Ma se vogliamo un contorno semplice e leggero non ci resta altro che saltarli in padella con uno spicchio d'aglio in filo d'olio.